You fam, come state? Oggi sono tornato con un altro banger, questo b-blog E niente ragazzi, ora mi vedete con una vestaglia Stamattina sono andato a scuola fino alle 11 E niente, ora sto mangiando Poi ci prepariamo e andiamo Ora, volevo mettere la tuta completa Quella della Prolific Questa qua Damn, non so per le scarpe Quindi io direi di andare con le cool cray Ok, cosa dite? Stiamo ciapatte, perché non posso? Bella Tanta roba Behind the scenes Behind the scenes 15.47 e si va in centro Andiamo Easy, arriva tra poco Ma va che quality Famo, guarda Va a vedere Ciao Ecco la Rachel, sta arrivando Appena viene, la inquadro Si, l'hai vista Senti, io non ho soldi per comprarmi il panino in questo momento È arrivato tuo amico Scendere virale fra basta Cosa? Oh, il mio video è neanche mille views ha fatto Oh, fammi vedere sti capelli Non fare expose così fra bastardo Adesso giochiamo a, come si dice? Tic-tac-toe Vai a dormire, coiotto Ti vedi? Sì Ciao ragazzi, ciao ragazzi 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 Sì Sì E 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 Però devi casare, ci devi casare Oh, devi casarci Dobbiamo casarci Dobbiamo casarci Ma che cameraman? Oh, shit! Oooo Guarda la luce 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 E E E tetto di quadatura ma se fai questo qua è neanche questo si allora fra, sincero stai capando fra pausa kebab dove andiamo? no piccante no senza piccante fa cagare era mio figlio damn non mangi oh my god oh my god oh my god mi metti le scarpe io fam tornato a casa e niente ragazzi sono stanchissimo ora mi do una lavata mangio e vado a letto fatemi sapere se questo video vi è piaciuto commento, like e noi ci vediamo nel prossimo vlog ah e se lo state guardando taggatemi su instagram con una bella foto che vi riposto tutti ciao ciao ciao